Il prefetto di Pesero-Urbino ci ha fatto una sorpresa bellissima, ha voluto conoscere la nostra realtà, credo che stia facendo un giro in tutte le realtà scolastiche della provincia, conoscendo quelle che sono le potenzialità di un territorio come quello della provincia di Pesero-Urbino. Quindi ci ha fatto l'onore di farci visita, è venuta qui nella nostra scuola secondaria, è venuta a ascoltare la musica che è il nostro pane quotidiano e quindi ha ascoltato tanti pezzi, bei pezzi che erano stati realizzati, eravamo al corrente che sarebbe venuta quindi ci eravamo preparati. Ci ha fatto non solo l'onore, ma ci ha fatto i complimenti ai ragazzi, ai docenti e noi siamo stati orgogliosi di questa sua presenza. E non solo, ha voluto anche visitare la scuola e anche altre mie scuole, fra cui anche la scuola dell'infanzia Valerio. Credo che stia organizzando degli eventi a livello territoriale, voglia un po' raccontare la storia di questo territorio coinvolgendo diverse istituzioni scolastiche. Io sono felicissima che abbia scelto fra queste anche l'istituzione che io derigo. Grazie! 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 Quindi questo vuol dire che è il pregiù... Guardi, sono veramente emozionata per ciò che ho sentito e ho visto in questo istituto. ragazzi bellissimi, ma soprattutto bravissimi veramente, sia a suonare musiche, tra l'altro contemporanee, ma anche musiche del Cinquecento, del Settecento. Quindi mi complimento, mi complimento con la dirigente scolastica e con tutti i professori per quello che riescono a fare in questa scuola. Grazie! 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 Grazie!